sono qui con ciro saggesi un grande amico della toni danillo bike ciao ciro ciao buongiorno a tutti ringrazio soprattutto Gaetano di Guida che mi ha trasmesso questa brutta malattia diciamo brutta è una cosa bellissima andare in bici presidente Gaetano di Guida aspetta 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 alza un po' la voce altrimenti non si sente che è il fuccio della festa allora ciro ringrazio il presidente Gaetano di Guida che mi ha trasmesso questa bellissima malattia andare in bici eccetera eccetera è un anno che già vado in bici e mi sto diventando da pazzo vado sempre a migliorare fortunatamente poi ho beccato degli amici che mi danno carica e buon Natale mi danno un stimolo di andare sulla bici e mi divento tantissimo prima della passione ciclistica sempre la famiglia come sempre mai dimenticare mai dimenticare la famiglia come primo piano famiglia e lavoro fortunatamente poi si lavora e i figli e i figli ringrazio a tutti ciao un bacio a tutti ciao ciro grazie ciao facciamoci dietro al gruppo dai dai ciao 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 ciao